Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Un gravissimo incidente si è verificato intorno alle 14 sulla Nazionale in Contrada Strasatti a Marsala in provincia di Trapani. Il bilancio è di un morto e di un ferito. A perdere la vita è un ragazzo di 14 anni, Giuseppe Barraco, che al momento dello schianto si trovava in sella a uno scooter insieme a un altro giovane rimasto ferito. La vittima era figlio di un noto artigiano locale. Non si conoscono le cause del sinistro, ma in base a una prima ricostruzione sarebbe stato il conducente del mezzo a due ruote a perdere il controllo e a schiantarsi. Non sarebbero coinvolti infatti altri mezzi. Restiamo in tema di incidenti perché è morto oggi nella terapia intensiva del Policlinico di Messina Diego Pannucci, 85 anni. Era ricoverato dallo scorso 28 settembre quando era stato investito da una moto sul viale Giostra mentre attraversava la strada. Le condizioni dell'uomo erano apparse subito gravi ed era stato trasportato d'urgenza al Policlinico. Era rimasto ferito, ma in modo lieve anche il motociclista, un 45enne messinese, ora indagato per omicidio stradale. Aggressione in piena notte in via San Salvo nel quartiere di Macchitella a Gela in provincia di Caltanissetta. La vittima è un imprenditore di 55 anni ripetutamente colpito alla testa da un comando di tre persone a salvare l'uomo. Sono state le urla della figlia che mezz'ora dopo la mezzanotte si è affacciata alla finestra di casa attirando l'attenzione dei residenti. Non si conosce il motivo dell'agguato, ma la violenza con cui sono stati inferti i colpi fa pensare alla volontà di uccidere il 55enne attualmente ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Villa Sofia di Palermo. E chiudiamo con una vincita fortunata ad Agrigento dove è stato centrato un 5 al Superenalotto per un monte premi di oltre 57 mila euro. Si nasconde ancora invece il 6 che nell'estrazione di ieri ha raggiunto un jackpot di 301 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di domani. La giocata del 5 centrato è stata convalidata in un punto vendita Sisal della città dei Templi. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento con il TG Flash alle ore 20. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.